Segretario, quali sono le problematiche che state affrontando con TUA? Le problematiche sono ormai stratificate da tempo, oltre alla carenza di personale c'è il problema delle relazioni industriali, che è la prima problematica, tant'è che il Direttore Generale di TUA ha sotteso anche un impegno che si è preso in Commissione di Vigilanza. Questa governance oggi sta di fatto tagliando il ramo su cui è seduto a danno dalla collettività abruzzese e dai lavoratori di TUA. Noi ci auguriamo che la politica ad oggi totalmente silente entri per una volta su questa tematica che tra l'altro è la seconda voce di spesa di Regione Abruzzo. Ormai da quattro anni, da quando si è insediato il Presidente Giulianti e il Direttore di Pasquale, non c'è alcuna possibilità di dialogo. È un'azienda autoreferenziale che pensa di poter disporre della forza lavoro a proprio piacimento e si è dimostrata arrogante addirittura anche al cospetto della Commissione di Vigilanza e al cospetto dei consiglieri regionali. Noi invece abbiamo bisogno di un'azienda con la quale si possa avere un dialogo, dove ci siano delle normali relazioni industriali. Noi vogliamo ricordare che siamo quelle stesse organizzazioni sindacali che nel 2015 diedero origine a TUA, ponendo fine a quel poltronificio che c'era all'epoca con tre aziende regionali di trasporto e non meritiamo assolutamente di essere trattati in questo mondo. Ad oggi il quadro dei dipendenti è di all'incirca di 1300 dipendenti. Se voi potete pensare all'inizio quando si è creata TUA, TUA vantava 1600 dipendenti. Nell'arco di cinque anni abbiamo perso 300 maestranze all'interno della TUA. Il problema è che noi, come ripeto, nella Commissione di Vigilanza il direttore ci aveva dato spazio di un incontro. Martedì abbiamo avuto l'incontro, sperando, partendo da un foglio bianco e senza nessun tipo di pregiudizio. L'azienda però alla fine di quell'incontro non è andata a buon fine perché l'azienda praticamente è rimasta sulle sue posizioni. È un giorno importante perché c'è questo sit-in, domani lo sciopero. Siete decisi ad andare avanti in questa protesta? Senza dubbio. Noi abbiamo attivato tutti i meccanismi che sono necessari, compresa la leva legale, per poter avere ragione di questa aberrazione. Perché questa società invece di diminuire il precariato lo sta incrementando all'ennesima potenza. Cioè sta assumendo ragazzi da trattare peggio degli interinali. Quindi siamo a zero proprio. Non c'è stato nessuno spiraglio nella riunione che abbiamo fatto ieri, pertanto noi andremo avanti fino a quando sarà necessario.